Notaresco, Francavilla e Vastese Pineto saranno il piatto forte della giornata numero 30 del campionato di Serie D. I due scontri tra abruzzesi avranno il compito di provare a definire le gerarchie nella zona playoff per tre di queste compagini, con gli aragonesi invece che sono chiamati ad una prova d'orgoglio dopo lo stop di Martorano con la Savignanese. Lo scontro del Vincenzo Savini è un po' una sfida per designare la formazione più in alto nelle abruzzesi. Rosso-bluo e giallo-rossi sono appaiati infatti a quota 47 punti nel trio di cui fa parte anche la San Giustese. Assenze pesanti per Mirko Cudini, fuori Blando, out per squalifica Bontà e Moretti e questo potrebbe costringere il tecnico di casa a ridisegnare il reparto offensivo dopo la bella prova di Campobasso con la rete a tempo quasi scaduto di Candellori che valsa una vittoria corroborante dopo i due stop di fila con Matelica e Isernia. Sul fronte Francavilla invece dà l'infermeria solo buone notizie per Paolo Rachini che ormai ha quasi tutti a disposizione tranne Bedin che dovrebbe rientrare tra 15 giorni in casa con il Matelica. Tre vittorie consecutive hanno rilanciato le quotazioni del Villa che ha in Dos Santos ormai un'arma micidiale davanti e sarà interessante anche il duello tutto sudamericano con Minella, altro cannoniere del Girone F che sarà sul fronte opposto. Mirko è veramente un ragazzo splendido, eravamo come fratelli ti dico la verità e lo vedevo in campo molto riflessivo e quindi aveva quel qualcosa già da allenatore quindi si sta confermando allenatore bravo, molto preparato e ha dato un'impronta importante al notaresco. Poi alla lunga fa la differenza, è una cosa che dico dall'inizio, quando tu hai un gruppo di 25 ragazzi che credono in qualcosa e poi nei momenti di difficoltà danno quel qualcosa in più per la squadra, quindi questo è successo a noi, abbiamo avuto le infezioni importanti però ripeto è un gruppo di ragazzi che si allena benissimo e come piace a me insomma e poi i risultati si vedono. All'Aragona invece arriva un Pineto che dopo l'1-3 interno rimediato con la Re Canatesi a fine gennaio non sbaglia praticamente più un colpo tre vittorie e due pareggi e un'era in corsa che tuttavia ancora non basta per assicurarsi un posto negli spareggi. Travolgente una settimana fa la lancelotta di Isernia, la squadra di Amaolo può contare non solo più sulle reti di Tomassini perché adesso anche Cruz e soprattutto Esposito trovano la via della rete con estrema facilità. La Vastesi invece ha necessità di cominciare realmente a correre per non ritrovarsi in una situazione complicata di classifica. Le prestazioni non sono state esaltate ultimamente e di fronte c'è un avversario d'altissimo profilo. Smaltita la serata di Coppa con il pareggio in gara 1, il Giulianova adesso deve tornare a concentrarsi su un campionato che lo vede in palese difficoltà. Unico successo nel girone di ritorno è quello nel derby con l'Avezzano. Troppo poco per continuare a cullarsi nel vantaggio accumulato in una prima parte di stagione positiva. Bolzan senza Di Paolo e Tozzi Borsoi un bel problema davanti contro una Savignanese che con Manuzzi e Longobardi è temibile anche Alfadini. Io non mi sono mai lamentato, non so neanche lamentarmi nella vita io, quindi non dico niente di chi non c'è. Speriamo di recuperare tutti i giocatori, mi piacerebbe allenare questa squadra con tutti i giocatori a disposizione. Però, ripeto, l'unico pensiero è la Savignanese. Vediamo come arriviamo a quella partita là, ma ripeto, i giocatori non si possono più nascondere. Dopo quello che hanno fatto oggi, domenica, devono fare la stessa cosa. Sfida da dentro o fuori per l'Avezzano che nei prossimi 270 minuti si giocherà una grande fetta di salvezza. I primi 90 sono con il Sant'Arcangelo e sono fondamentali dopo il derby perso a Francavilla domenica scorsa. Poi, dopo la sosta, ci saranno Forni e Iesina. Se Gianluca Colavitto e i suoi riescono a centrare un buon risultato al Dei Marsi, replicando quanto di buono fatto con la Sangiustese, possono aspirare a trarsi d'impaccio, altrimenti la strada già irta si farebbe complicatissima. Giornata alla 30 che arriva prima della pausa di settimana prossima. In tante hanno bisogno di un risultato buono per non vivere 14 giorni col peso di un passo falso.